L'invincibilità degli afghani nel proprio cortile è indiscutibile. Che si trattasse i sovietici nel 1980, o gli americani inviare 9-11, il mito della invincibilità afghana sul proprio terreno detiene ancora la sua santità. Perché non importa quanto sia forte e ben attrezzata il nemico, un afgano non crede a concedere terra. Tranne quando Ari Singh Nalva, uno dei comandanti dell'esercito di Reranit Singh, li ha portati in ginocchio. La leggenda vuole che le madri afghane utilizzati per acquietare i loro neonati, prendendo il nome di Nalva e per i giovani afghani, il suo nome era il terrore parlato in Ushush. E probabilmente è per questo che anche i generali americani utilizzati per raccontare la storia di Nalva di motivare le loro truppe, quando la guerra degli americani e Afghanistan era nel suo spessore. Ari Singh Nalva è nato a Guirenva nel 1791. Era figlio unico, e i suoi antenati erano originari di Mayita paese vicino a Amritsar. Suo nonno, Sardar Ardass Singh, impegnati nel servizio di Sukarshakia Misl, Reranit Singh apparteneva a questa Misl, ed è stato ucciso in una spedizione intrapreso dal Misl nel 1762. Il padre, Gurdial Singh, seguito la professione del padre ha preso parte a varie campagne di Sukarshakia Sardars, Sharath Singh e Man Singh, in qualità di Deradar. Egli è scaduto nel 1798, quando Ari Singh era solo sette anni, e quest'ultimo è stato quindi curato con cura e cautela da suo zio materno, che lo prese in casa sua. Un incidente ha avuto luogo nei primi giorni di Ari Singh Nalva di servizio nell'esercito calza. Durante una battuta di caccia, Ari Singh è stato attaccato da una tigre. L'attacco è stato così sottile e inaspettato che non ha avuto abbastanza tempo per tirare fuori la sua spada. Giovane Ari Singh ha affrontato la situazione cruciale con tale coraggio che è riuscito a catturare in mano la mascella della bestia con le mani, con forza spingendo via prima di uccidere con la sua spada. Noto storico Baron Sharlugel dice di essere stato chiamato Nalva per aver spaccato la testa di una tigre, che lo aveva già preso la sua pregare. Prima campagna militare significativo di Ari Singh Nalva è stata quella di Kasur nel 1807. Insieme con i suoi compagni comandanti, Ari Singh Nalva ha marciato a Kasur di soggiogare la sua afghani proprietario Kuta Boddin Khan. Si cassediarono per tre mesi dopo che Kuta Boddin Khan si arrese. Ari Singh Nalva è stato il primo a marciare all'interno del cancello città di Kasur, con la sua divisione Sher di Rayman. Battaglia di Attock nel, 1813, presso il Forte di Attock è stato un importante punto di rifornimento per tutti gli eserciti che attraversano l'Indo. Si combattuto e vinto la battaglia sotto la guida di Devan Mokam Shant, generale di Re Ranit, Singh, contro Azim Khan e suo fratello Dostmo Ahmad Khan, questa è stata la prima vittoria dei Sikh sul Durrani e la Baratsais. Peshawar, la capitale estiva del regno di Kabul è diventato un affluente nel 1818 quando il figlio di Shah Mahmud, Shah Kamran, ucciso il loro Baratsai Watzir Fateh Khan nel mese di agosto 1818. I Sikh, al fine di trarre vantaggio da questo vuoto per il loro esercito formalmente guadato l'Indo ed è entrato Peshawar per la prima volta. L'esercito Sikh atturato Peshawar ed Aquinari Singh Nalva è stato chiesto alla stazione di se stesso sul confine afgano Pugnab per mantenere ritorsione afghana sotto controllo. Nel 1822, il Sindh Sagardoab è principalmente controllata da Manchera e Mita Tivana. Navab Afiz Ahmed Khan, un parente del Durrani, esercitò una notevole influenza in questa regione. Oltre Manchera, ha comandato una vasta area protetta di dodici forti. Con l'indebolimento del governo afgano a Kabul, i governatori di Atok, Manchera, Mita Tivana e Kushab avevano dichiarato la loro indipendenza. Ranit Singh ha voluto approfittare di questa opportunità e vincere Singh Sagardo ad Afiz Ahmed Khan. Chiamò Ari Singh, che era il governatore del Kashmir in questo momento, di entrare nell'esercito laureggià in cammino verso il fiumendo. Il forte di Manchera si trovava nel mezzo del Tal. È stato costruito di fango con una cittadella di mattoni cotti circondato da un fossato asciutto. Per rendere la fortezza centrale inaccessibile, nessun pozzi sono stati autorizzati dal Navab da interrare in un raggio di 15 chilometri. Nella notte del 26 novembre, Ari Singh Nalva, insieme ad altri capi e Yagirdarus, fondata loro Morshas, batterie, nel lungo raggio arma da fuoco del luogo. Hanno trovato vecchi pozzi, che i loro uomini sgomberato, e quelli freschi sono state scavate. Nelle notti del 6-7 dicembre si avvicinavano più vicino al fosso. La schermaglia che seguì fu feroce e ha provocato una notevole perdita di vite umane. L'assedio del forte di Manchera è durato 25 giorni. Infine, il Navab ha accettato la sconfitta e l'ultima roccaforte Saddozai cade su Sik. Battaglia di Nocera nel 1823, Battaglia di Serikot nel 1824, Battaglia di Saidu nel 1827 e il sequestro di Peshawar nel 1834 sono i principali battaglie combattute e vinte da Nalva. Nel 1836. Ari Singh Nalva ha conquistato Yamrud, una fortezza alla foce del Passo Kiber. Questa vittoria ha significato che Sik potrebbe lanciare un'offensiva contro Kabul in qualsiasi momento. Dost Mohamed Khan di Kabul era allarmato con questa vittoria. Ma il matrimonio di Naunial Singh, nipote di Re Ranit Singh nel 1837, ha cambiato l'equazione e le truppe sono stati ritirati da tutto pugnab di mettere su una dimostrazione di forza per il comandante britannico che è stato invitato al matrimonio. Dost Mohamed Khan è stato anche invitato alla grande festa, ma non andò. Invece ha scelto di cogliere l'occasione per cogliere Yamrud. Ari Singh Nalva ha anticipato questo e non è andato a Amritsar, stazionamento se stesso a Peshawar. Dost Mohamed ordinò al suo esercito a marciare verso Yamrud insieme ai suoi cinque figli e dei suoi principali consiglieri, con l'ordine di non impegnarsi con i Sik. Invece, era più di una dimostrazione di forza per cercare di strappare i forti di Shabqadar, Yamrud e Peshawar. Ari Singh è stato anche detto di non impegnarsi con gli afghani fino a rinforzi arrivati dalla Ore. Il tenente di Ari Singh, Maan Singh, era nella fortezza di Yamrud con 600 uomini e rifornimenti limitati. Ari Singh, che era a Peshawar, si trasferisce a salvare i suoi uomini che erano circondati da ogni parte dalle forze afghane, senza acqua nella piccola fortezza. Anche se i Sik sono stati totalmente in inferiorità numerica, l'arrivo improvviso di Ari Singh Nalva ha messo gli afghani in panico totale. Nella mischia, Ari Singh Nalva è stato accidentalmente ferito gravemente. Prima di morire, ha detto il suo luogotenente di non lasciare che la notizia della sua morte fuori fino all'arrivo dei rinforzi, che è quello che ha fatto. Mentre gli afghani sapevano che Ari Singh era stato ferito, hanno aspettato per più di una settimana senza fare nulla, fino a quando la notizia della sua morte è stata confermata. A questo punto, le truppe la Ore erano arrivati e semplicemente assistito gli afghani in fuga torna a Kabul. Ari Singh Nalva aveva difeso non solo Yamrud e Peshawar, ma aveva impedito gli afghani dal devastando l'intera frontiera nord-ovest.